Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nella dimensione del true crime, il presunto amore spesso si rivela come un'autentica ossessione e manifesta effetti collaterali dannosi anche per coloro che ruotano intorno alla vita del carnefice e della vittima. Siamo nel 1993 e ci troviamo a Hinesville, una città dell'Australia nord-orientale situata nello stato del Queensland. Qui vive Gabriel Mayer, soprannominato Gabe, un ragazzo di 17 anni. Gabe è nato nel 1976 a Miami, in Florida, dove prima abitava la sua famiglia. Gli suoi genitori si chiamano Sherry e Doug e il loro nucleo è molto numeroso. Infatti Gabe ha ben cinque fratelli. Lui è il secondo genito, nato un paio di anni dopo la sorella maggiore Fawn. Gabe è particolarmente legato a Fawn, ma adora tutti i suoi fratellini e sorelline e durante la crescita il loro legame si rafforza sempre di più. Come anticipato, la famiglia Mayer viveva a Miami, dove Doug, il padre di Gabe, lavorava come costruttore di barche, mentre sua moglie e Sherry si dedicava alla casa e ai figli. Tuttavia, con il tempo Doug aveva concluso che dovevano trasferirsi, principalmente per ragioni legate alla sicurezza della vita dei figli. Siccome il tasso di criminalità in Florida all'epoca era davvero elevato, Doug e Sherry erano preoccupati che i loro ragazzi crescessero lì. Così avevano scelto di stabilirsi in un posto che ritenevano più tranquillo e protetto, nell'accogliente cittadina di Innsville, in Australia. Avevano comprato una magnifica casa vicino al fiume e si erano sistemati velocemente. Sembravano molto felici nella loro nuova città, che Doug descrive come un posto magico. Per i suoi genitori, Gabe è un ragazzino adorabile e in effetti è ben voluto da tutti quelli che lo conoscono. È un tipo avventuroso e sportivo, ma è diventato anche un giovane responsabile e maturo. Ecco perché Doug e Sherry vengono assaliti dal panico quando un giorno, inaspettatamente, Gabe non fa più ritorno a casa. Martedì 12 gennaio del 1993, Gabe non è andato a scuola perché è periodo di vacanze scolastiche. Così nel pomeriggio il ragazzo ha chiesto un passaggio a suo padre per raggiungere la palestra locale che frequenta abitualmente. Doug ha consentito e dopo averlo accompagnato e salutato ha immaginato di rividerlo circa un paio d'ore più tardi. Ma sono ormai le 19 e 30, è quasi ora di cena, tutti si accomodano intorno al tavolo per mangiare, eppure non c'è ancora traccia di Gabe. Inizialmente Doug e Sherry provano a non farsi prendere dal panico, del resto il figlio ha 17 anni, quindi ha conquistato un po' di libertà e indipendenza in più. I suoi genitori ipotizzano che avesse incontrato degli amici e avesse deciso di unirsi a loro, perdendo la cognizione del tempo, dimenticando di avvisare la famiglia del suo ritardo. Cercano quindi di rimanere tranquilli e più tardi provano a prendere sonno, ma è impossibile. Sperano di sentire il rumore della porta d'ingresso che si apre e di tanto in tanto vanno a controllare se Gabe si trovi nella sua camera. Forse è rientrato, ma non l'hanno sentito. No, purtroppo non è così, il letto di Gabe è ancora vuoto. Le ore passano e i genitori del ragazzo non riescono a scrollarsi di dosso, una sensazione di inquietudine. Gabe sì, è un adolescente, ma come vi ho detto prima, è un ragazzo molto responsabile. Non è da lui sparire così senza farsi più sentire, generando preoccupazione nei suoi genitori. Le ore continuano a scorrere lente e Gabe ancora non torna a casa né contatta la sua famiglia. Dunque, inevitabilmente, il panico di Sherry e Doug aumenta gradualmente. Iniziano a temere che Gabe abbia avuto un incidente, forse è stato investito ed è stato portato via da un'ambulanza, quindi potrebbe trovarsi in un ospedale della zona. Doug e Sherry telefonano a diversi ospedali locali, chiedono se hanno ricoverato un ragazzo di nome Gabe Meyer, ma non ottengono alcuna notizia. Così, la mattina successiva, appena sorge il sole, Doug e Sherry intendono contattare tutti gli amici di Gabe, supponendo che il figlio avesse trascorso la notte a casa di uno di loro. Il primo amico con cui parlano è un ragazzo più grande di nome Damon Kalanka. Damon ha 26 anni ed è stato insieme alla sorella maggiore di Gabe, Fawn. Anche a Damon interessa molto avere una buona forma fisica, infatti lui e Gabe vanno insieme ad allenarsi. Non a caso, nel pomeriggio del 12 gennaio, quando Doug ha lasciato suo figlio in palestra, anche Damon era lì presente. Quindi, l'ultima volta che Doug ha visto suo figlio, era in compagnia di Damon. Ecco perché vuole parlare con lui per primo. Doug sale in macchina e guida fino ad arrivare all'appartamento di Damon, parcheggia l'auto e bussa la sua porta. Damon ascolta Doug, che gli racconta che suo figlio Gabe non è tornato a casa dalla palestra la sera prima, quindi gli chiede se per caso sappia dove si trova. Damon risponde che, dopo l'allenamento in palestra, Gabe è andato a casa sua dove è rimasto soltanto per un po', perché poi voleva recarsi presso un pontile del Johnstone River a fare una notata. Questa notizia in realtà stranisce Doug. Perché suo figlio voleva andare a nuotare quando era già buio? Nonostante la perplessità, Doug raggiunge il pontile e ispezione i dintorni, ma non trova nessuno. Doug a questo punto sa che purtroppo gli resta una sola cosa da fare, contattare la polizia per sporgere denuncia di scomparsa. Fatto questo passo, l'indagine sulle tracce di Gabe Meyer inizia. Innanzitutto la polizia prova a delineare un profilo del ragazzo. Che carattere ha? Chi sono i suoi amici? Com'è la sua famiglia? Fin da subito in realtà circolano diverse teorie su cosa potrebbe essere successo a Gabe. In primo luogo si ipotizza che si sia allontanato volontariamente, come a volte fanno gli adolescenti, ma la polizia deve esaminare scrupolosamente tutte le possibilità. Infatti questa eventualità viene esclusa velocemente. La polizia studia attentamente la famiglia del ragazzo e la sua vita nell'ambiente domestico, concludendo che Gabe non aveva assolutamente un buon motivo per fuggire di casa. Come vi ho già detto, proviene da una famiglia amorevole e unita, con cui va d'accordo. Per smentire ulteriormente questa teoria, la polizia analizza le attività effettuate sul conto corrente bancario di Gabe e scopre che non ve ne sono di recenti. Lui non ha prelevato denaro. Al contrario, se fosse scappato avrebbe indubbiamente avuto bisogno di soldi per pagare l'alloggio, il cibo e il viaggio. Inoltre non ci sono nemmeno prove che Gabe abbia usato qualche mezzo di trasporto pubblico da quando è scomparso. La polizia, dialogando con i servizi e le aziende di trasporto locale, si è accertata che Gabe non ha preso né taxi né autobus. Siccome non emergono indizi a sostegno dell'ipotesi dell'allontanamento volontario, la polizia teme che Gabe sia rimasto coinvolto in un brutto incidente. Forse è annegato nel Johnstone River o è stato aggredito dai numerosi coccodrilli che lo popolano, dato che Damon, l'ultima persona che l'ha visto, ha rivelato la sua intenzione di voler fare una nuotata serale nel fiume. Con questa ipotesi in mente, la polizia perlustra le sponde del fiume, dato che i coccodrilli nascondono lì il loro cibo per poi tornare a consumarlo. Tuttavia del corpo di Gabe non c'è traccia, così come dei suoi vestiti. In ogni caso i genitori del ragazzo, Doug e Sherry, non credono a questa teoria perché sanno che il figlio non è uno sciocco. Gabe è ben consapevole dei pericoli del fiume e mai vi ci sarebbe immerso, tra l'altro di sera e da solo. Lui è sempre stato un amante dell'acqua, anche in Florida è cresciuto a contatto con questo elemento. Adorava andare in spiaggia, nuotare, pescare, fare compagnia al padre mentre lavorava sulle barche. Insomma, Gabe apprezza la bellezza del mare e del fiume, ma è al contempo un conoscitore dei rischi ad essi collegati. Questo significa, agli occhi di Doug e Sherry, che l'amico di Gabe, Damon, ha mentito. Ma se fosse così, per quale motivo? Secondo la polizia, se Damon si è inventato questa storia è perché, in qualche modo, è coinvolto nell'improvvisa scomparsa di Gabe. Le autorità in poco tempo iniziano a guardare Damon con sospetto. Prima di tutto perché, come sappiamo, è Lughi l'ultima persona ad aver visto Gabe in vita e, in secondo luogo, perché il nome di Damon Calanca non gli ha fatto nuovo. Infatti, due anni prima, Damon era stato accusato di tentato omicidio. Nel 1991 era stato arrestato dopo aver tentato di uccidere un ragazzo di nome Paul Malick. Le motivazioni che avevano condotto Damon Calanca a compiere il crimine ruotavano attorno a una sua ex fidanzata che, dopo poco tempo, l'aveva lasciato per iniziare una nuova relazione con Paul Malick. Damon era assolutamente furioso, non riusciva proprio a mettersi l'anima in pace, aveva cercato a lungo di riconquistarla, ma lei continuava a rifiutarlo. Così, una sera del 1991, Damon aveva chiesto a Paul un incontro per discutere dell'intera situazione e risolverla. Paul aveva consentito, Damon aveva guidato fino a raggiungere una zona isolata, mentre Paul lo seguiva nella sua macchina. Aveva accostato l'auto, entrambi erano scesi dal proprio veicolo, ma mentre Paul Malick era rivolto di spalle, Damon Calanca ne aveva approfittato per colpirlo. Aveva afferrato un coltello per affondarglielo nella schiena. Fortunatamente il coltello maneggiato da Damon era scivolato e la lama gli aveva tagliato la mano, facendogli perdere la presa sull'arma. Allora Paul, ormai consapevole delle sue cattive intenzioni, aveva raccolto rapidamente il coltello da terra, era risalito nella sua macchina ed era scappato via. Damon si era gettato all'inseguimento della sua vittima a una velocità elevata, cercando di colpirlo con il proprio veicolo. Ma Paul era riuscito a saltare fuori dalla macchina e a correre fino a raggiungere una fattoria. Aveva bussato alla porta d'ingresso per chiedere aiuto e quando il proprietario l'aveva aperta lo aveva implorato di chiamare la polizia, dato che un uomo stava provando ad ucciderlo. Dunque Paul, grazie a Dio, era riuscito a sopravvivere, mentre Damon era stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Tuttavia l'accusa di tentato omicidio per un motivo ignoto era stata ritirata all'inizio del processo. Non emerge alcuna informazione online su questa marcia indietro e alla fine Damon aveva ricevuto un'accusa minore di ferimento illegale e guida pericolosa. Era stato punito con 200 ore di servizio presso la comunità. Anche se aveva tentato di uccidere una persona, non era nemmeno finito in prigione e onestamente la trovo una cosa davvero assurda. Comunque questo è il motivo per cui quando Gabe Mayer scompare due anni dopo, nel 1993, la polizia dubita fortemente dell'innocenza di Damon. Gabe era scomparso e l'ultima persona ad averlo visto vivo era stato proprio Damon Calanca, un uomo che solo due anni prima era stato arrestato per tentato omicidio. Così Damon diventa immediatamente una persona di interesse per le autorità che gli chiedono di recarsi alla stazione di polizia per fornire la sua versione dei fatti in relazione al giorno in cui Gabe è scomparso. Come vi ho già detto, i due si erano allenati in palestra insieme, poi Damon aveva invitato Gabe a casa propria e quest'ultimo aveva consentito. Una volta arrivati si erano messi comodi e avevano chiacchierato un po'. Damon aveva preparato un frullato proteico a Gabe, da buon cultore della forma fisica e della salute. Poco prima infatti gli aveva parlato di queste bevande che lui stesso consumava per rinforzarsi e Gabe era molto curioso di assaggiarne una. Dopo aver bevuto il frullato intorno alle 17.30 di quel pomeriggio, Gabe se n'era andato da casa di Damon dicendogli che si sarebbe diretto a nuotare nel fiume. Il sospettato riferisce alle autorità che è questa l'ultima circostanza in cui ha visto Gabe e la storia viene confermata dai coinquilini di Damon. Infatti lui condivide la casa con altre due persone che erano presenti nell'appartamento quel pomeriggio, quando Damon e Gabe erano tornati dalla palestra. I coinquilini confermano che Gabe se n'era andato verso le 17.30, se lo ricordano perché 15 minuti dopo anche loro erano usciti per dirigersi al cinema, lasciando Damon da solo nell'appartamento. Quindi nonostante i sospetti della polizia, Damon ha dei testimoni che confermano il suo racconto. Ma se lui non ha niente a che fare con la scomparsa di Gabe, allora questo ragazzo dov'è finito? Cosa gli è successo? Un paio di giorni dopo la sua scomparsa i suoi genitori lanciano un appello al telegiornale per chiedere informazioni riguardo alla sparizione del figlio. L'appello di Doug e Sherry consente alla polizia di raccogliere una serie di suggerimenti legati a diverse segnalazioni di avvistamenti provenienti da tutta l'Australia. Purtroppo, all'inizio, questa operazione conduce a un vicolo cieco, ma poi, circa una settimana dopo la scomparsa di Gabe, la stazione di polizia riceve una chiamata di rilievo da parte di un adolescente, la quale spiega che lei e il suo ragazzo avevano avvistato qualcosa. Intorno alle 19.30 della sera in cui Gabe era scomparso, loro due si trovavano sul pontile presso il Johnstone River e avevano notato alcuni oggetti abbandonati sulla spona del fiume, una borsa e delle scarpe. Senza pensarci troppo, entrambi avevano deciso di raccogliere questi oggetti e di gettarli in acqua, giusto per fare una goliardata. Pochi giorni dopo, però, la coppia aveva sentito parlare della scomparsa di Gabe al telegiornale e si era allarmata. Le autorità ipotizzavano che Gabe potesse essere scomparso proprio mentre nuotava nel Johnstone River. Ecco perché la ragazza ha deciso di contattare la polizia, supponendo che gli oggetti ritrovati e poi gettati nel fiume insieme al suo fidanzato appartenessero a Gabe. Quando la polizia riceve questa informazione decide di perquisire a fondo il Johnstone River. Vi ricordo che i detective finora hanno perlustrato soltanto le rive del fiume, ma adesso entrano in azione i Sub, che si immergono sott'acqua alla ricerca degli effetti personali che, forse, appartengono a Gabe. Come precauzione, prima di far intervenire la squadra di Sub, la polizia ha piazzato degli esplosivi non letali nel fiume, allo scopo di spaventare e allontanare i coccodrilli. Nel giro di pochi minuti, i Sub individuano e riportano a galla un orologio da polso, che viene immediatamente mostrato ai genitori di Gabe. Purtroppo, Sherry e Doug confermano che apparteneva al figlio. Ma i Sub non recuperano soltanto l'orologio, trovano anche delle scarpe e uno zaino, e risulta che anche questi oggetti erano di Gabe. Li indossava proprio il giorno della sua scomparsa. Questo sembra suggerire che il 17enne sia davvero rimasto coinvolto in un tragico incidente nel fiume, come già supposto, o era negato, oppure era stato attaccato da un coccodrillo. La polizia però nutre ancora dei dubbi, sospetta che sia successo qualcosa di più sinistro a Gabe, e a suggerirlo è proprio il suo orologio. Secondo un documentario che ho visto si trattava di un orologio subacqueo, che probabilmente Gabe aveva già quando viveva in Florida, visto che era cresciuto a contatto con l'acqua per via del lavoro svolto dal padre. Sono presenti ben due clip per allacciare e slacciare l'orologio dal polso, quindi risulta strano che sia stato trovato nell'acqua e che non sia ancora saldamente attaccato al braccio di Gabe. Dunque, se l'orologio di Gabe è sprofondato nel fiume, significa che qualcuno gliel'aveva tolto per poi gettarlo in acqua, non lontano dalla riva vicino al pontile. Ma perché qualcuno gli aveva rimosso l'orologio dal polso? E soprattutto, chi aveva lasciato i suoi effetti personali sulla sponda del fiume? Si trattava per caso di un dentativo per insabbiare la verità? Per simulare che Gabe fosse davvero andato a nuotare, finendo per annegare o per essere attaccato dai coccodrilli? Sembra proprio che qualcuno si sia impegnato per far passare un omicidio, come un incidente. Qualcuno che, per la polizia, è ancora Damon Calanca, nonostante i suoi conquilini avessero confermato la sua storia. Damon continua a essere uno dei principali sospettati. Dopotutto era stato lui a dire alla polizia e alla famiglia di Gabe che il ragazzo era andato a nuotare nel fiume Johnstone. Ma ponendosi nell'ottica in cui Damon ha ucciso Gabe, bisogna chiedersi qual è il movente? Perché Damon voleva Gabe morto? In realtà a questo ipotetico movente si risale facilmente considerando che Fawn, la sorella maggiore di Gabe, era l'ex fidanzata di Damon Calanca. Avevano avuto una relazione per un breve periodo di tempo. Damon e Fawn si erano incontrati in palestra e avevano cominciato a conversare. Da quel momento, ogni volta che lui la vedeva, la salutava sempre, le chiedeva come stava e come era andata la sua giornata. Le rivolgeva anche un sacco di complimenti. Insomma, era evidente che a Damon, Fawn piaceva molto. E anche Fawn lo ricambiava. Lo reputava carino e affascinante. Così aveva accettato il suo invito a uscire. Tuttavia la loro relazione era durata soltanto tre settimane circa, quindi molto poco, perché Fawn aveva deciso di tornare a Miami, in Florida, nella città in cui abitava con la sua famiglia prima di stabilirsi in Australia. Voleva frequentare lì l'università e siccome sarebbe rimasta a Miami per tre anni, aveva deciso di evitare una relazione a distanza. Anche Damon sapeva già che per questo motivo il rapporto con Fawn non sarebbe durato a lungo. Ciononostante, durante quelle tre settimane di frequentazione, Damon aveva conosciuto tutta la famiglia di Fawn e si era legato molto a tutti. Del resto, anche i familiari di Fawn, Damon piaceva molto. I coniugi Meyer, Doug e Sherry, pensavano che Damon fosse un ragazzo educato, gentile e amichevole. Certo, avevano anche notato che lui era già profondamente innamorato di Fawn, anzi, era quasi ossessionato da lei. E siccome Damon sapeva che quella relazione sarebbe finita presto, la famiglia della ragazza reputava il suo trasporto un po' eccessivo. Intanto, Damon era diventato un buon amico di Gabe. Infatti, i due spesso uscivano insieme e si allenavano in palestra. Poco prima del Natale del 1992, dunque pochi mesi prima della scomparsa di Gabe, Fawn era partita per frequentare l'università in Florida. Era stata accompagnata all'aeroporto dai suoi genitori e anche da Damon. Doug e Sherry avevano notato che il ragazzo era davvero triste, anzi, molto turbato dal fatto che Fawn se ne stesse andando. I coniugi erano così dispiaciuti per lui, infatti avevano cercato di sostenerlo, di essere presenti per l'ex della figlia. L'avevano persino invitato a trascorrere con loro il giorno di Natale quando Fawn era già lontana. Questo ci fa comprendere quanto è gentile e genuina la famiglia dei Meyer. Loro non conoscevano poi così bene Damon, visto che il ragazzo era uscito con la figlia soltanto per qualche settimana. Probabilmente erano convinti che presto lui avrebbe superato questo momento di sconforto, ma le cose non erano andate proprio così. Come con la sua precedente ex, anche in questo caso Damon non riusciva a distaccarsi. Non voleva che Fawn andasse avanti con la sua vita, che ne costruisse una nuova in America senza di lui. Infatti le inviava delle lettere quasi quotidianamente, a volte Fawn ne riceveva addirittura due al giorno. In questi sfoghi Damon le ripetiva quanto lei gli mancava e chi la amava. In una lettera in particolare alla fine Damon gli aveva scritto mi manchi così tanto da stare male. E vi ricordo che i due erano stati insieme per tre settimane. Ciò nonostante, sempre attraverso quelle lettere Damon pregava costantemente Fawn di tornare in Australia, perché diceva che lei gli apparteneva. In un'occasione le aveva anche scritto che avrebbe pagato lui il biglietto del volo. Come immaginerete, Fawn si sentiva soffocata dall'insistenza di Damon. Anche se lui si trovava così lontano da lei, in un altro continente, lei avvertiva di essere quasi in trappola. Inoltre Damon non si era limitato a scrivere quelle lettere lagnose, ma aveva mentito a Fawn dicendole che gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, nella speranza che lei si sentisse in colpa e tornasse in Australia. Questo è un vero e proprio aborto emotivo e mentale. Eppure Fawn era stata chiara, non voleva più stare con lui, aveva appena 19 anni e tutta la vita davanti a sé, da vivere come meglio credeva. Aveva appena iniziato un nuovo capitolo in America, quindi non voleva sentirsi legata a lui. Desiderava accogliere tutte le opportunità a pieno e qualora avesse conosciuto un ragazzo che le piaceva, voleva sentirsi libera di frequentarlo. Ma Damon pretendeva che lei tornasse in Australia soltanto per lui, non voleva accettare la sua decisione, non riusciva a gestire il suo rifiuto. È chiaro. In generale Damon non sopportava che le donne lo respingessero, come dimostra quello che era successo un paio d'anni prima, quando aveva quasi ammazzato Paul Malick, il nuovo fidanzato della sua ex, convinto che eliminarlo servisse per farla tornare da lui. Onestamente trovo la convinzione di Damon a dir poco aberrante. Considera le donne come degli oggetti, quindi per lui non possono fare le loro scelte autonomamente. I genitori di Fawn, quando erano venuti a sapere che Damon inviava quotidianamente delle lettere alla figlia in cui la supplicava di tornare indietro, si erano molto preoccupati. Le avevano suggerito di impuntarsi nel dire a Damon che doveva smetterla di assillarla. Basta con questa valanga di lettere piene di suppliche. Fawn allora aveva chiamato Damon e gli aveva chiesto di evitare di contattarla. Ora lei viveva in America e non sarebbe tornata in Australia, se non per emergenze legate alla sua famiglia. Soltanto se i suoi cari si fossero trovati in difficoltà, se qualcuno si fosse fatto male o si fosse ammalato, lei non ci avrebbe pensato due volte a tornare. Il discorso che Fawn aveva fatto a Damon per la polizia risuona come un campanello d'allarme. Guarda caso, Gabe era scomparso proprio poco tempo dopo quella telefonata. Forse Damon aveva scelto di fare del male al fratello minore della sua ex pensando che soltanto così lei avrebbe fatto il ritorno in Australia. C'è però un problema di non poca importanza. I detective non hanno prove concrete per dimostrarlo, quindi scavano più a fondo nei movimenti di Damon relativi alla serie in cui Gabe era scomparso. Nel suo primo interrogatorio Damon aveva detto alla polizia che poco tempo dopo che Gabe aveva lasciato il suo appartamento per andare a nuotare, nel tardo pomeriggio del 12 gennaio, anche lui era uscito per recarsi a noleggiare un furgone. Ne aveva bisogno per trasportare un tappeto fino a casa di sua sorella che viveva nella città di Tully, sempre nel Queensland, a circa 40 minuti di macchina da Innsville. Voleva regalarglielo, quindi aveva caricato il tappeto sul retro del furgone noleggiato, poi aveva accompagnato un vicino di casa in un pub. Il vicino gli aveva chiesto il favore di dargli un passaggio fino al locale dove doveva incassare un assegno. Dopo questo servizio Damon aveva iniziato a guidare verso la città di Tully. Tuttavia in realtà non era mai arrivato lì perché circa a metà tragitto aveva iniziato a piavere a di rotto. Così Damon aveva deciso di fare inversione e tornare a casa. Quelle non erano le condizioni meteorologiche ideali per guidare. Inoltre il tappeto era adagiato sul retro scoperto del furgone, quindi non era protetto dalla pioggia e si stava bagnando. Il tappeto, conclude Damon dialogando con la polizia, si trova ancora nel suo garage perché non c'è più stato un momento favorevole per consegnarla alla sorella. La polizia allora decide di sequestrare il tappeto, lo esamina e si rende conto che è davvero malmesso e sporco. Ma come? Damon vuole regalare alla sorella un tappeto vecchio e sudicio? La cosa più allarmante è che le numerose macchie che lo ricoprono a prima vista sembrano tracce di sangue. Quindi il tappeto viene analizzato da una squadra forense ma questa stabilisce che non si tratta di macchie di sangue. La polizia sequestra anche il furgone noleggiato da Damon ipotizzando che gli servisse per trasportare il corpo di Gabe. Ma di nuovo non emerge nulla supporto di questa teoria, all'interno del veicolo non ci sono prove, tuttavia la polizia ravvisa una potenziale discrepanza nella storia di Damon Calanca relativa a quella sera. Attraverso lo storico del chilometraggio del furgone si evince che la notte della scomparsa di Gabe, Damon aveva percorso circa 119 chilometri. Gli investigatori decidono di effettuare lo stesso viaggio, di percorrere esattamente la stessa strada che Damon avrebbe fatto quella notte ma raggiungono la meta dopo soli 61 chilometri. C'è un ammanco di 58 chilometri che dimostra che Damon non è stato sincero. Si era diretto anche altrove, ma dove? Forse in una zona isolata per smaltire il cadavere di Gabe? Per questo non ne ha parlato con la polizia? La situazione è sospetta ma questi elementi non costituiscono una effettiva prova, non sono sufficienti per appurare la colpevolezza di Damon. Inoltre all'inizio delle indagini l'appartamento di Damon era stato perquisito in cerca di tracce di sangue, segne di lotta, ma anche in quel caso gli agenti non avevano individuato nulla che indicasse che quella era la scena di un crimine. Insomma gli investigatori per ora non hanno ancora raccolto nulla di particolarmente incriminante nei confronti di Damon Kalanka, ma vengono contattati da un suo amico, un certo James Potter. James sa che il suo amico Damon è una persona di interesse nel caso della scomparsa di Gabe e ha qualche informazione su di lui che reputa rilevante per le indagini. James Potter spiega alla polizia che circa due settimane prima della sparizione di Gabe, Damon lo aveva portato nella zona del ruscello Polis Creek, in un'area della foresta pluviale che si trova vicino a Innsvale. In particolare Damon aveva condotto James in un punto della boscaglia e lo aveva assegnato con due bastoncini che formavano una croce. Aveva spiegato che voleva ricordare quel punto ed essere in grado di ritrovarlo quando sarebbe tornato a Polis Creek. James aggiunge tra l'altro che non molto tempo dopo Damon gli aveva chiesto in prestito una pala. Dopo aver ricevuto questa informazione la polizia corre al Polis Creek e individua la X. Non molto lontano da lì nota un grosso mucchio di foglie di palma che sembrano disposte proprio per coprire qualcosa. Infatti al di sotto di questo tappeto di foglie la polizia scopre un buco scavato nel terreno. La fossa è abbastanza larga e profonda da contenere un corpo umano. Sembra una tomba. Tuttavia gli agenti non trovano nessuno all'interno del buco. È vuoto. Tra l'altro questa non è l'unica fossa simile a una tomba che la polizia individua a Polis Creek. Ci sono altre due buche più piccole e anche quelle sono vuote. La polizia però ritiene comunque che questi solchi nel terreno siano stati scavati da Damon Calanca. Decide quindi di interrogarlo di nuovo. Gli agenti lo conducono alla stazione di polizia e gli chiedono si era stato lui a scavare quei buchi a Polis Creek. Damon risponde di sì, lo avrebbe fatto perché aveva intenzione di coltivare della sostanza leggera che poi avrebbe venduto. I detective però chiaramente non credono a questa storia perché non era necessario creare delle buche così profonde per coltivare delle piante. In una di quelle fosse c'è spazio per una persona. Forse. Inizialmente Damon aveva deciso di seppellire là sotto il corpo di Gabe ma poi per qualche motivo ancora da svelare aveva cambiato idea e lo aveva nascosto da qualche altra parte. Durante questo interrogatorio gli investigatori gli chiedono direttamente se è lui che ha ucciso Gabe o meglio gli dicono sai circolano delle voci secondo le quali sei tu il responsabile della scomparsa di Gabe. Cosa ci dici in merito? Damon risponde ai detective che questa voce è assolutamente falsa, lui è innocente, ama la famiglia Meyer, non farebbe mai nulla per ferire qualcuno di loro, Gabe incluso. Tuttavia ormai gli investigatori sono assolutamente convinti che Damon è coinvolto nella scomparsa di Gabe ma continuano a non avere le prove per dimostrarlo. Eppure ci sono così tanti aspetti della storia di Damon Calanca che non hanno senso. Le buche scavate a Polis Creek, il tappeto vecchio e sporco che voleva regalare a sua sorella, lo storico del chilometraggio del furgone a noleggio, la sua affermazione secondo la quale Gabe voleva andare a nuotare in un fiume infestato dai coccodrilli. Insomma niente di tutto questo quadra ma allo stesso tempo le incongruenze o insensatezze ravvisate non sono sufficienti per provare la colpevolezza di Damon, quindi la polizia al momento ha le mani legate. Per di più vi ricordo che non si sa se Gabe è davvero deceduto, il suo corpo non è ancora stato trovato. La polizia a questo punto è disorientata, le altre linee di indagine seguite non hanno portato da nessuna parte. Così i detective decidono di coinvolgere una persona che forse può ottenere la verità da Damon, ovvero Fawn, la sua ex e sorella maggiore di Gabe. Lei intanto si trova ancora in America. La polizia come detto crede che Damon avesse fatto sparire Gabe nella speranza di incoraggiare Fawn a prendere un aereo per tornare in Australia. Così la polizia le chiede aiuto proponendone di chiamare Damon sempre se la cosa non le crea disagio. Durante la telefonata dovrebbe fargli alcune domande sulla scomparsa di suo fratello. Fawn decisa a scoprire cosa sia successo a Gabe accetta di collaborare, quindi chiama Damon. Gli fa una promessa, non ha intenzione di accusarlo di aver fatto del male a suo fratello. Tuttavia lei non tornerà a casa finché non avrà scoperto cosa è accaduto a Gabe e dove si trova. Intanto Damon è sotto sorveglianza 24 ore su 24, quindi la polizia spera che le parole di Fawn lo spingano a rivelare informazioni importanti o a spostare il corpo di Gabe affinché venga rinvenuto. Tuttavia Damon non si lascia scappare nulla e non commette alcuna azione rilevante. Dunque la polizia ha imboccato un altro vicolo cieco e col tempo il caso di Gabe inizia a raffreddarsi. L'indagine è frustrante per la polizia ma per i membri della famiglia Meyer è devastante. Loro sono sicuri che Damon Kalanka è il responsabile della scomparsa di Gabe che di certo lui lo ha ucciso ma purtroppo non sussistono prove che lo inchiodino al crimine. Temono che Damon riuscirà a farla franca se il corpo di Gabe non verrà trovato. Dopo due settimane dalla scomparsa del 17enne finalmente la polizia assiste alla svolta di cui ha disperatamente bisogno grazie alla soffiata di una cittadina. Lei si chiama Margaret Carmichael, vive in una zona agricola appena fuori da Innsville e riporta un accaduto della sera prima. Mentre faceva una passeggiata intorno a casa sua è stata disturbata da un odore disgustoso. La donna dice alla polizia ho avvertito qualcosa mentre camminavo di sera. Era un tanfo davvero repellente, una puzza come quella di un maiale morto. Spero solo che si tratti davvero di un maiale. Margaret spiega meglio in che zona vive e i detective si interessano particolarmente al suo racconto perché scoprono che i suoi vicini di casa sono i genitori di Damon Calanca. Lui viveva proprio lì insieme a loro prima di trasferirsi nell'appartamento che ora condivide con i due coinquilini. Questo significa che conosce molto bene quella zona che ci ha cresciuto. E ora due settimane dopo la scomparsa di Gabe la vicina di casa dei coniugi Calanca Margaret Carmichael ha chiamato alla polizia dicendo che avverte l'odore di un cadavere. I detective corrono a ispezionare la zona e identificano rapidamente il punto da cui proviene il tanfo. Si trova sul terreno di un'area boschiva appena fuori dalla strada ed è anch'esso coperto di foglie e rami di alberi. Avvicinandosi di più i detective notano che uno sciame di mosche allegge intorno a quel punto. Scavano attentamente e trovano un corpo umano senza vita. Quello del 17enne Gabe Mayer avvolto in una coperta fissata con una corda. Un altro pezzo di corda invece è stata usata per legargli le caviglie e i polsi alla schiena. La sua famiglia viene immediatamente informata del tragico ritrovamento. Nel frattempo un detective raccoglie una dichiarazione da Margaret Carmichael, la donna che ha indotto la polizia a notare la presenza di questa tomba poco profonda vicino a casa sua. Margaret afferma anche che la sera del 12 gennaio aveva visto i fari di un veicolo illuminare una strada secondaria la quale conduce alla zona dove si trova il terreno agricolo che nascondeva il corpo senza vita di Gabe. Margaret non vi aveva prestato particolare attenzione quella sera ma ora è chiaro che era Damon a guidare il veicolo. Aveva ucciso Gabe da poco e cercava un posto dove seppellire il suo cadavere. Margaret dice ai detective che il giorno prima della sua chiamata alla polizia per segnalare quel cattivo odore aveva anche visto Damon in bicicletta nei pressi della zona in cui era sepolto il corpo di Gabe. Forse il suo assassino aveva cercato di infossare meglio la tomba perché più tardi quel punto a Margaret era apparso diverso c'erano molti più fogli e rami accumulati l'intorno. La polizia concorda. Damon è tornato presso la tomba nel tentativo di nasconderla ulteriormente. Finalmente la polizia è riuscita a recuperare il corpo del povero Gabe e sta anche raccogliendo molte prove che collegano Damon all'omicidio del ragazzo. Ora il quadro di questo terribile delitto inizia a ricomporsi. Anche se è indiscusso che Gabe è stato assassinato da Damon a una prima occhiata agli investigatori non riescono a capire come lo abbia ucciso esattamente. Non individuano nessuna ferita nessun segno sul suo corpo quindi bisogna eseguire un'ispezione cadaverica. Durante l'autopsia ecco che emerge la verità. Il medico legale scopre che nel momento della morte di Gabe il suo organismo conteneva una serie di farmaci diversi. Farmaci che spesso compongono le compresse per curare il raffreddore e l'influenza. Ma Gabe ne ha assunti talmente tanti che potrebbe aver perso conoscenza ed essere morto poco dopo la somministrazione. Gabe quindi era stato stordito. Come ricorderete durante il primo interrogatorio Damon aveva detto agli investigatori che aveva offerto a Gabe un frullato proteico prima che il ragazzo andasse a nuotare. La polizia deduce che Damon Calanca in realtà gli aveva preparato un cocktail a base di medicine polverizzate in anticipo e in grande quantità. Gabe non aveva idea di cosa stesse consumando e ulteriori prove a sostegno di questa tesi provengono da un farmacista di Innsville da cui Damon aveva acquistato questi farmaci. La polizia infatti si è messa in contatto con tutte le farmacie vicine e uno dei farmacisti ha mostrato agli agenti una ricevuta che Damon aveva firmato dopo aver acquistato due pacchetti di medicinali per curare il raffreddore e l'influenza. Questa ricevuta è datata 6 gennaio 1993, sei giorni prima della scomparsa di Gabe. La data è particolarmente significativa perché coincide anche con il giorno dell'ultima chiamata che Fawn aveva fatto a Damon chiedendogli di lasciarla in pace e di non cercarla mai più. Come ricorderete proprio durante questa telefonata Fawn aveva spiegato a Damon che sarebbe tornato in Australia soltanto se la sua famiglia avesse avuto bisogno di lei o se fosse successo qualcosa a uno dei suoi cari. Ovviamente non può essere una coincidenza, non è possibile che Damon per puro caso fosse andato ad acquistare tutte quelle pillole proprio a seguito di questa chiamata. Fortunatamente le prove contro Damon Calanca non finiscono qui. I coinquilini di Damon dicono ai detective che la corda usata per legare le caviglie e i polsi di Gabe la tenevano in cucina. Affermano che in effetti stranamente dopo la scomparsa del ragazzo anche la corda era sparita. Non riuscivano proprio a ritrovarla nell'appartamento. Ora è chiaro che Damon l'aveva presa e usata per i suoi macabri intenti. Ancor più dopo la scoperta del corpo senza vita di Gabe le immagini della coperta in cui era arrotolato il suo cadavere vengono rilasciate al pubblico. A questo punto si fa viva la ex moglie di Damon perché sì a quanto pare era sposato e riferisce alla polizia che quella coperta apparteneva a lei e all'ex marito. Dopo la separazione lui però aveva voluto tenerla per sé. Quando la coperta viene esaminata attentamente su di essa gli scienziati forensi rilevano un numero di fibre estranee che non appartengono allo stesso tessuto. Infatti provengono dal tappeto presente nel garage di Damon quello che lui ha detto a sua voleva regalare a sua sorella. La polizia a questo punto deduce che dopo l'omicidio Damon aveva avvolto il corpo di Gabe nella coperta e a sua volta la coperta era stata arrotolata nel tappeto. Dopodiché l'assassino aveva sistemato il tutto nel retro del furgone e l'aveva portato nella zona vicino alla casa dei suoi genitori per seppellire il cadavere e la sola coperta. Ecco perché il dna le impronte digitali o il sangue di Gabe non erano stati trovati nel veicolo noleggiato da Damon. In seguito alla scoperta di tutte queste prove il 26enne Damon Calanca viene finalmente arrestato per l'omicidio del 17enne Gabe Meyer. A questo punto la sorella dell'indagato che si chiama Deborah va a trovarlo in carcere. Ancora aspira con tutto il cuore che Damon non si è responsabile di questo efferato crimine ma in fondo sa che sta soltanto mentendo a se stessa perché il colpevole dell'omicidio del 17enne è indubbiamente suo fratello. Deborah è così arrabbiata e confusa che non sa bene cosa vuole ottenere. Vorrebbe che lui la convincesse della sua innocenza dicendole un netto no non sono stato io sono serio ma poi quando Damon la guarda in faccia pronunciando queste esatte parole lei ha una reazione imprevista. Gli risponde per una volta nella vita voglio che tu faccia l'uomo e dica la verità la sua famiglia deve sapere. Deborah riferisce alla polizia che a questo punto Damon ha ceduto. Ha ammesso davanti a sua sorella che sì lui aveva ucciso Gabe. Ha poi affermato di averlo fatto soltanto perché apparentemente Gabe aveva cercato di avvicinarsi un po' troppo a lui. Mi spiego meglio in pratica Damon ha cercato di usare come scudo la Gabe Panic Defense. Ha insinuato che Gabe ci avesse provato con lui quindi era andato nel panico e in un impido d'ira lo aveva ucciso. Tuttavia dovete sapere che l'unica persona a cui Damon racconta questa storia assurda è sua sorella Deborah. La polizia infatti prova a sottoporla a un altro interrogatorio ma lui rifiuta di parlare oltre quindi non confermerà mai agli agenti chi aveva ucciso Gabe perché lui gli aveva rivolto dell'avance. La polizia a prescindere non crede affatto a questa storia anche se la difesa nella fase del procedimento giudiziario cerca di sostenere che Damon Calanca aveva commesso un omicidio colposo. infatti alla fine Damon ammette di essere il responsabile della morte di Gabe ma afferma che non intendeva ucciderlo. Aspetta quindi all'accusa di mostrare che in realtà si tratta di un omicidio premeditato con tutte le prove in possesso. Tanto per cominciare c'è la ricevuta del farmacista che dimostrava che l'imputato aveva acquistato le compresse per curare il raffreddore e l'influenza qualche giorno prima che Gabe sparisse e dopo che Fawn, sua sorella maggiore, aveva definitivamente lasciato Damon chiedendogli di non contattarla più. Quindi il motivo per cui Damon ha ucciso Gabe era incentrato sul tentativo di attirare Fawn in Australia. Pur di raggiungere il suo obiettivo, pur di cercare di riaverla, Damon è stato disposto a danneggiare uno dei suoi fratelli. Durante un'udienza l'accusa avanza l'ipotesi che inizialmente Damon avesse preso di mira uno dei fratelli più giovani di Fawn e questo spiegherebbe la presenza delle buche più piccole trovate a Police Creek, accanto alla fossa più grande. Oltretutto queste tombe sono già delle prove utili per dimostrare l'elemento della premeditazione. Infatti Damon le aveva mostrate al suo amico James Potter circa due settimane prima della scomparsa di Gabe. Forse ricorderete che Damon aveva anche segnato il terreno con due bastoni che formavano una croce per ricordarsi il punto preciso in cui aveva scavato. Infine aveva chiesto in prestito a James una pala. L'accusa sta presentando alla giuria il quadro completo delle prove e descrive la versione degli eventi che emerge in base a queste. Nel pomeriggio del 12 gennaio 1993, dopo che Gabe e Damon si erano allenati in palestra, erano tornati insieme all'appartamento di Damon. Gabe era rimasto lì per un po', aveva chiacchierato con Damon e i suoi due coinquilini, poi intorno alle 17.30 se n'era andato. 15 minuti dopo anche i coinquilini di Damon avevano lasciato l'appartamento per dirigersi al cinema. L'accusa però ritiene che poco dopo, per qualche motivo, Gabe era tornato nell'appartamento di Damon. Forse aveva dimenticato qualcosa. In ogni caso, a quel punto, Damon gli aveva offerto quel frullato proteico. Lo aveva preparato schiacciando molteplici compresse per guarire dal raffreddore e dall'influenza, e le aveva mescolate all'interno della bevanda. L'accusa sostiene che il piano iniziale di Damon fosse quello di portare Gabe, sonnolente, nella zona di Police Creek, dove aveva scavato quelle fosse, e di ucciderlo. Tuttavia gli aveva somministrato così tante pillole che Gabe era svenuto. Allora Damon aveva deciso di ucciderlo lì, nel proprio appartamento. Dovete conoscere un altro dettaglio sul ritrovamento del corpo di Gabe, ovvero che la polizia aveva notato un minuscolo pezzo di un sacchetto di plastica attaccato alla sua faccia. Per questo motivo, la polizia e l'accusa teorizzano che, quando Gabe aveva perso i sensi, Damon gli aveva infilato un sacchetto di plastica in testa, e lo aveva soffocato a morte. Dopo l'omicidio, Damon aveva deciso di mettere da parte alcune cose che indossava Gabe, come le sue scarpe, il suo orologio e il suo zaino. Aveva recuperato la corda presente in cucina e gli aveva legato polsi e caviglie. Lo aveva poi avvolto nella coperta che aveva assicurato al corpo con un altro pezzo di corda. Dopodiché aveva noleggiato il furgone, arrotolato il cadavere anche in un tappeto conservato nel garage. Infine, quella sera, aveva trasportato il tutto nel retro dell'auto. Si ritiene che proprio a questo punto, mentre Damon era in procinto di salire nel veicolo, il suo vicino di casa gli aveva chiesto un passaggio per andare al pub locale e tornare indietro siccome doveva ritirare un assegno. Damon aveva accettato di fargli questo favore, ma gli aveva detto che prima avrebbe dovuto sbrigare una commissione veloce. Si era quindi diretto al pontile, si era avvicinato alle sponde del Johnstone River e aveva lasciato lì gli oggetti precedentemente rimossi dal corpo di Gabe. Aveva gettato il suo orologio in acqua e aveva abbandonato su un lato del molo le scarpe e lo zaino della vittima, nella speranza che la polizia credesse alla sua storia, cioè che Gabe era andato a nuotare nel fiume. Come ricorderete, quegli oggetti erano stati ritrovati da una coppia di adolescenti che, forse, per il gusto di fare una bravata, li ha lanciati nel fiume, ma per fortuna i sub li hanno trovati durante l'immersione. Tornando a Damon, una volta arrivato a casa, aveva accompagnato il suo vicino al pub e l'aveva riportato indietro. Chiaramente il vicino non aveva idea, durante il tragitto di andata e ritorno, di essersi seduto su un furgone che, nel retro, ospitava il cadavere di un diciassettenne. Alla fine della giornata, Damon si era recato nella zona dove abitano i suoi genitori per seppellire Gabe. Aveva cambiato idea, evitando di recarsi a Police Creek, dove aveva già scavato le tombe, perché il cammino da affrontare era più lungo e avrebbe dovuto inoltrarsi nella foresta. Non poteva guidare fino a raggiungere il punto esatto delle fosse. Ecco perché aveva pianificato di arrivare lì con Gabe ancora vivo, sì, di certo assonnato, ma almeno in grado di camminare, bene o male, sulle sue gambe. Con Gabe già morto, era impensabile trascinare il suo corpo sul posto della sopoltura a Police Creek, un rischio troppo elevato considerando le sue sole forze. Così Damon si era recato con il furgone nella boscaglia nei pressi della casa dei suoi genitori, limitandosi a nascondere lì il corpo di Gabe, senza nemmeno seppellirlo a fondo. Aveva fretta di ritornare nel suo appartamento, in modo che i suoi coinquilini lo avrebbero trovato in casa al loro rientro dal cinema. In questo modo, Damon si sarebbe costruito un alibi. Bisogna ammettere che Damon era stato molto astuto, aveva pensato proprio a tutto. Più tardi, quando i suoi coinquilini erano andati a letto, era uscito di nuovo ed era risalito in macchina. Aveva recuperato una torcia in una stazione di servizio locale e, infine, era tornato nella zona in cui abitavano i suoi genitori, dove aveva nascosto il cadavere. Visto che ormai era notte inoltrata, la torcia gli serviva per seppellire meglio il corpo di Gabe, lasciato in una fossa poco profonda. La mattina dopo, Damon aveva ripreso la sua vita come se nulla fosse successo. Si era inventato che Gabe il giorno prima gli aveva anticipato la sua intenzione di nuotare nel Johnstone River, mentendo apertamente ai genitori della vittima e alla ragazza che voleva riconquistare, ossia phone, e anche alla polizia. Il processo carico di Damon Calanca termina nel febbraio del 1994. L'imputato viene dichiarato colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo per un minimo di 13 anni. Pena che considero folle, onestamente. Ciò significa che dopo soli 13 anni di carcere tra il 2006 e il 2007, Damon ha potuto richiedere la libertà condizionale. Infatti ha presentato domanda numerose volte nel corso degli anni, ma fortunatamente è stata rifiutata. Ovviamente la famiglia di Gabe, in particolare i suoi genitori Doug e Sherry, imploravano sempre il consiglio di non lasciare che quell'uomo uccidesse i figli di qualcun altro, una volta uscito di prigione. A supporto della loro preoccupazione, vi ricordo la vicenda di Paul Malick. Damon se l'è cavata nonostante il tentato omicidio, perché il sistema giudiziario aveva declassato la sua accusa, quindi era stato condannato soltanto a svolgere il servizio comunitario. Non posso fare a meno di sottolineare che, se l'accusa di tentato omicidio non fosse stata ritirata per motivi a noi sconosciuti, Damon sarebbe stato in prigione nel periodo in cui, invece, aveva scelto di uccidere Gabe. Quindi la famiglia Mayer ha fatto tutto il possibile per ribadire che Damon rappresentava un rischio troppo grande per il prossimo, dunque non si poteva neanche prendere in considerazione il suo rilascio. Damon Kalanka ha chiesto la libertà condizionale per un totale di cinque volte nel corso degli anni e, purtroppo, al quinto tentativo, ha avuto successo. Infatti, all'inizio del 2020 è stato rilasciato. Ha scontato complessivamente 26 anni di detenzione per l'omicidio dell'adolescente Gabe Mayer. Non riesco a immaginare quanto sia stato devastante per i coniugi Mayer non solo perdere un figlio così giovane e in un modo così orribile, brutale e insensato, ma anche assistere al rilascio del suo assassino di nuovo a piede libero. Dalle fonti consultate, Damon in questi quattro anni non ha commesso altri crimini. Non so dove viva adesso, né cosa stia facendo, ma spero vivamente che venga tenuto d'occhio. A mio parere, sussiste la possibilità che sia recidivo, vista la sua predisposizione a provare un'ossessione verso le donne che frequenta. Ossessione che, tra l'altro, si sviluppa in pochissimo tempo. Al termine del processo, i genitori di Gabe, Doug e Sherry hanno cofondato un gruppo di sostegno per le vittime di omicidio del Queensland. Questa organizzazione fornisce supporto e consulenza ad altre famiglie segnate dagli stessi eventi tragici, che quindi hanno dovuto fare i conti con l'omicidio di un loro caro e con i traumi che ne derivano. Il loro intento è stato indubbiamente nobile e altruistico, nonostante lo shock di aver subito una perdita ingiusta, evitabile e prematura. E questo ci porta alla fine di questo video e quindi alla fine di questo caso. Io sono molto curiosa di sapere la vostra opinione e la mia opinione in realtà è molto semplice. Io mi chiedo semplicemente come Damon abbia pensato di uccidere il fratello della sua ex per convincerla a tornare in Australia. Immagino che pensasse che non l'avrebbero mai scoperto a questo punto. La trovo una cosa assurda, davvero davvero assurda. È incredibile quanto l'ossessione possa portare a questi risvolti così tragici. Ricordiamoci che questa relazione era durata tre settimane e Fawn era stata molto chiara con lui, chiara, limpida, cristallina. Non voleva portare avanti una relazione quando sarebbe partita e quindi lui lo sapeva. Lui non si è ritrovato di colpo abbandonato, ok? Fawn gliel'aveva detto chiaramente fin dall'inizio. Si erano conosciuti, gli aveva detto guarda se vuoi ci frequentiamo ma io tra tre settimane parto per l'America e non ho alcuna intenzione di portare avanti una relazione a distanza. Questa situazione secondo me rende il tutto ancora più insopportabile ma fatemi sapere cosa ne pensate voi. Conoscevate questo caso? Scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!